C'era una volta, un piccolo principe che arrivò sul pianeta Terra. Quella che ascolterete è la musica che Maria Lindemann ha scritto per la sua storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Narcisista e presuntuosa richiedeva così tanta attenzione che un giorno il piccolo principe si arrabbò e decise di partire. Partire dal suo piccolo pianeta a volo d'uccello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il piccolo principe decise di visitare molti pianeti. Per imparare ciò che c'era mai imparare. Il primo pianeta che visitò era quello di Arrè. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il piccolo principe viaggiava da un pianeta. pianeta a un pianeta a un pianeta a un pianeta a un pianeta. è un pianeta a un pianeta. e non è un pianeta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.